Chiari quadristi ed eccoci, sempre a Castellano, ultimi aggiustamenti del team RZ, Extreme Tech che adesso passiamo anche dal buon Franco Fratton che sta lavorando sulle sospensioni come un pazzo. Vediamo il Giova con Edgarda che stanno lavorando sull'angolazione del manubrio, sta chiedendo anche un manubrio diverso con una maggiore angolazione verso l'alto delle leve, molto stancante per il pilota ma sicuramente... in grado di dargli molto più controllo e molta più sensibilità sul mezzo, praticamente vediamo Edgar che sicuramente predilige un mezzo molto più stancante per lui ma un mezzo che gli possa dare molto più controllo del mezzo stesso, della traiettoria e consente di mettere in luce la sua sensibilità. Impressionante il fatto che siano piloti che affrontano un 25 minuti e che richiedono delle tarature così stancanti per un pilota. Giova come è seguire un pilota che ti dice praticamente mettimi la moto in modo che io faccia fatica ma che sia più veloce da non credere. Questo è il gas duro, che tutti lo vogliono morbido. Il manubrio alto. I tempi cambiano. Mi ha detto gastropoteneroi. Cazzo. I tempi cambiano, cazzo, 17 anni. Eh sì, sì, sì. Forse ha ragione lui. Forse è una questione di età. Ragione l'altro estone, a Righis. È comunque incredibile la capacità fisica di cui si necessita per poter gestire un mezzo. Per avere le prestazioni questi piloti a livello internazionale sono i migliori in Europa. Vogliono anche un mezzo stancante, non gli interessa ma devono avere la prestazione e hanno la capacità fisica adatta per sfruttare un mezzo che stanche così tanto. Lui fa i work, si deve pregare di durata, senza guanti. Fa quei maratoneti. E disparate che in Italia non può correre. E vediamo che stiamo lavorando sui rapporti perché il motore del team RZ, essendo una motorizzazione da crossa, scarica molti, ma molti cavalli e il motore tende a prendere troppi giri. Cioè è immediato, sembra quasi un due tempi in coppia quando scarica cavalli. E per cercare di far fare più metri ovviamente stanno allungando i rapporti per fornire un attimino più di allungo al mezzo perché fin troppi cavalli, ecco queste sono le motivazioni dell'allungo dei rapporti al crossadono di Castellarano. Grande Franco, ecco ti qua. Sei qua con una cifra di piloti e una cifra di mezzi, Franco. KTM, Yamaha, due piloti, Edgar e Andrea Cesari che hanno due tipi di guida diversi. Hai un bel da fare a ottimizzare le regolazioni a tutti. Parlaci un po' di queste regolazioni molto morbide che ti richiede Edgar. Ma Edgar senz'altro è un ragazzo che per il suo modo di guida, con qualunque moto l'ho visto in pista... Ricordiamo che ha un KTM solitamente? Sì, usa delle tarature senz'altro più morbide rispetto a tutti gli altri. Qua trappesi c'è una pista che è veramente in condizioni abbastanza difficili, visto le piogge nella gara di domenica scorsa, poi stiamo lavorando per mettergliela a posto. Non è che... direi che sta usando le tarature su questa moto che sono molto simili a quelle che usiamo con le moto di Romain sulle piste dure, per cui eventualmente viaggia un pochino più morbido, ma anche perché è un pochino più leggero. Comunque ha una guida molto molto morbida, molto fluida, e senz'altro è un beneficio su piste di questo genere. Andrea è senz'altro più pesante di lui, comunque guida il KTM da sempre, diciamo, non aveva avuto la possibilità di guidare mezzi diversi, con un leveraggio sul posteriore, per cui è costretto anche ad andare con delle moto un pochettino più rigide, e senz'altro Andrea sta, diciamo, imparando di volta in volta a migliorare anche la sua fluidità di guida, che è migliorata notevolmente rispetto all'anno scorso. Direi che non ci sono delle grosse modifiche che stiamo facendo, la moto di Andrea è nelle stesse condizioni di quella di domenica che ha corso in Germania. E vi sembra che abbia accorso bene? Ha accorso molto bene, sforzandosi di mettere in pratica quello che ha imparato ultimamente, e dandoci meno gas di quello che normalmente ci vuol dare, di fatti ha fatto delle ultime prestazioni. E ha portato a casa un risultato, non parliamo neanche, no? Ha portato a casa un grossissimo risultato, direi, io sono convinto che farà molto bene anche il prossimo weekend, nei prossimi avvenire sulle piste dure, perché comunque lo vedo tirare, e meno che i tempi sono comunque ottimi, e soprattutto lo stile è veramente migliorato molto. E' maturato molto come pilota, ha trovato una via sua, uno stile suo, e è riuscito a concretizzare quello che in questi anni stava preparando. Senz'altro è diventato comunque, penso soprattutto è molto, si è convinto delle sue possibilità, sa che può fare certe cose, ogni tanto strafa, però direi che il miglioramento è stato, la tecnica di guida che è migliorata ulteriormente rispetto a quella suona che aveva, e la confezione delle sue capacità. Sulla gara di domenica non c'è niente da dire, si è inserito subito dentro ai primi dieci, e per tutto il weekend è stato nei primi dieci, poi, logicamente, una buona partenza, si è trovato in un'ottima posizione, da notare che al di là dell'incidente di Cupri, erano tre ragazzini ai primi tre posti per parecchi giri, e i più esperti comunque hanno faticato a guardarli vicini. Sono andati via, poi veniteci a prendere. Sì, esatto, per cui hanno faticato, è stato molto bello. Grande Franco, un saluto, ti lasciamo agli ultimi settaggi della moto di Edgar, e poi per fine giornata un riepicologo, un punto della situazione, sugli vari stadi di preparazione dei mezzi. Va bene. Grazie Franco. Grazie.